Tu sei un Avenger, lo sai, cioè di conseguenza tu sei deciso, sei più Avenger di lei perché poi le cose pericolose le facevi tu Bella raga, nuovo appuntamento, nuovo Passa dal Basement, sono sempre Gianluca Gazzoli se non l'avete ancora fatto vi va, iscrivetevi a questo canale e oggi impazziamo io ve lo dico, sono molto contento di Passa dal Basement perché come avete notato e visto insomma abbiamo modo di parlare, di approfondire di tante cose che mi piacciono, no non è vero, non solo cose che mi piacciono ma in realtà la cosa di oggi, ripeto, sono molto contento perché è un tema che mi ha sempre affascinato un sacco il mondo del cinema, soprattutto il backstage, mi ha sempre affascinato ed è per questo che in realtà chiaramente qualcosina forse avete già visto in realtà sul titolo perché YouTube funziona così ma in realtà con noi c'è Roberta Mancino, ciao Roberta, allora, Roberta io devo dirlo subito fuori onda io ho fatto subito la mia prima gaff con te perché prima parlando, quando stavamo chiacchierando parlando di quello, di una delle tante cose che fai nella vita, ho detto stuntman perché per me stuntman era un po' la dicitura in generale, non avevo ragionato che effettivamente man sta per uomo, ma tu effettivamente sei una stuntwoman, giusto? esatto guarda che c'è anche il pubblico che applaudi dal tuo sentimento, applaida il tuo essere questi sono i grandi effetti speciali che probabilmente hanno anche a Hollywood forse meglio, come stai? tutto bene? benissimo, sono appena tornata, quindi felicissima di essere in Italia e finalmente di mangiare la cucina italiana perché diciamo, insomma, tu sei italiana ma per fare questo mestiere, tra l'altro a livello alto in cui lo fai, ovviamente lo devi fare dall'altra parte del mondo, in particolare a Los Angeles, si immagina, quindi tu vivi lì, giusto? io vivo fra Los Angeles e adesso mi sono spostata a Puerto Rico ok, che voglio dire? ho aggiunto una cosa in più, mi piace fare surf, quindi sto imparando a fare surf e mi sono spostata su un'isola incredibile, tanto possiamo dirlo, Roberta è arrivata qua, si è calata da un aereo sopra il basement ed è entrata direttamente qui, perché se vi capiterà di fare un salto sul suo profilo Instagram, vedrete le infinite cose che fa, decisamente spericolate, forse quella più, insomma, ne hai fatte tante, come dicevo prima, però forse la più illustre anche un po' per il pubblico italiano, tu hai fatto la Stunt Woman di Scarlett Johansson giusto? all'interno di alcuni dei film Marvel più conosciuti esatto, è l'ultimo film, Black Widow, dove appunto lei si lancia anche, non so se avete visto il film, diciamo che qualcuno l'ha visto questo film è spesso in aria e quindi quando non hai i piedi a terra, la maggior parte delle volte sono io quando non hai i piedi a terra, questo perché? perché per non far vedere i piedi di... no, non credo, perché sono tutti ruoli in cui... si chiamano scene aeree, quindi io faccio, sono nel, diciamo nella sezione Stunt per le cose aeree e quindi quando c'è paracadutismo, base jump oppure anche con dei cavi, lo faccio io bello, cioè bello vederlo fare da te, no, è una roba a me le cose adrenaliniche piacciono un sacco, ma poi arrivare a farle è decisamente, è decisamente difficile e ovviamente adesso ho citato Scarlett perché quindi di conseguenza tu sei un Avenger, lo sai, cioè di conseguenza mi sento anche un Avenger, sei più Avenger di lei perché poi le cose pericolose le facevi tu sì e poi anche sono innamorata della Marvel ok, ma già da prima avevi quindi questo... sì, allora il primo film che ho fatto era Iron Man 3 dove non facevo la controfigura di nessuno ma di me stessa e comunque era una scena d'azione anche insomma abbastanza pericolosa sì e dove eravamo un gruppo di paracadutisti e ci lanciavamo tutti insieme durante un'esplosione ok, ok e quindi abbiamo girato anche delle cose in studio dove abbiamo dovuto imparare il mestiere proprio sai dello stunt che non è solo il paracadutismo ovviamente e quindi dove non so eravamo attaccati a delle si chiamano zipline ok quindi ci tiravano contro il muro, prendevamo delle botte e imparavamo anche a fare delle acrobazie ok mentre uscivamo fuori dall'aereo e poi altre zipline come per esempio la scena finale dove tutto questo gruppo dopo che Iron Man è riuscito a salvare tutte le persone che erano cadute giù dall'aereo noi cadiamo in acqua e lì c'era una gru altissima dove ci hanno appeso tutti quanti e la maggior parte era a testa in giù a che altezza era questa? era alta, beh sì, 30 metri e quindi con questa zipline lunghissima ci lasciavano e iniziavamo a scorrere giù e poi all'improvviso tagliavano la zipline e noi cadevamo in acqua e quante volte si ripete una scena come questa? eh questa qui l'abbiamo ripetuta tutto il giorno davvero? quindi ok raga, ciac, va bene, rifacciamola quindi si riparte, vi rimettono sulla gru si riparte tutto e l'harness, come si dice, l'equipment è doloroso perché proprio senti che ti ferma la circolazione, deve essere strettissimo e poi ovviamente le botte in acqua che prendevamo dove devi stare attento ai timpani perché lì devi cadere come viene, non puoi tuffarti tagliare l'acqua in un modo particolare per non farti male mazza, quella è la cosa più pericolosa che hai fatto fino ad oggi come stuntwoman? allora direi non nei film ma solamente nei miei progetti di base jump con la tuta l'area perché non so se sei... ecco e quindi ho fatto diverse imprese una è stata volare su un vulcano attivo in Cile e che insomma il volo non era tanto pericoloso però l'atterraggio cioè doveva essere tutto studiato quindi è come con gli aerei, cioè non è il volo, è l'atterraggio, il decollo sì, l'atterraggio perché appunto diciamo alla fine di un vulcano ci sono tante rocce vulcaniche quindi l'atterraggio era molto tecnico e lì volare sul vulcano non c'è qualcosa che esce nell'aria che può dar fastidio? sì, però non lo sapevamo quindi abbiamo studiato un pochino, abbiamo parlato anche con delle persone che sono esperte e comunque c'era tanto fuoco e lava però almeno non c'era tanto fumo e comunque siamo rimasti con il fiato sospeso proprio per non respirare questi gas e in quanti eravate a fare questa cosa? io con i videoman, due ragazzi che mi facevano il video e loro si buttavano come te? sì quindi anche loro con la tutalare? sì, perché mi seguivano per farmi il video mazza e quello diciamo è stato non così pericoloso però stressante ci credo perché non conoscevamo proprio il territorio guarda io per ora tutalare solo all'xbox c'è un gioco fantastico a cui sto giocando adesso dove devo usare la tutalare e mi sembra difficile anche nel videogioco però quanto ho capito è un discorso di correnti un po' come io ho fatto quest'estate per la prima volta a parapendio e non l'avevo mai fatto e quando ero su io non so se tu fai ancora questo tipo di riflessione quando partiamo mentre sono su tutto gasato a un certo punto dico cazzo ma io sono su attaccato a un lenzuolo di stoffa e basta e sto volando cioè tu ti fermi mai a pensare a quanto effettivamente è pericolosa la cosa che stai facendo? eh certo altrimenti sarei pazza ok no beh però credo che sia adesso io non voglio però comunque qualcosina un minimo di follia ci deve essere sì sì però ti dico la verità io in volo mi sento a mio agio sto benissimo sto in pace entro nel mio natural come si dice? nel tuo habitat naturale esatto e quindi mi concentro e anche mi rilasso tantissimo ok è come sai quando vai a fare yoga no? che ti dimentichi di tutto quello che succede intorno e lì è la stessa cosa perché devi stare attento anche no allora io adesso ti faccio un po' di domande perché sono troppo curiosa del tuo mestiere lo trovo veramente incredibile e come si fa? come sei diventata una stantuoma? allora sono partita per Los Angeles tanti anni fa e non ci credevo però tu già facevi cose estreme solo paragadutismo però in quel momento ok e comunque avevo già fatto dei record del mondo ok avevo già partecipato alle gare anche coppa del mondo avevo già tanti lanci credo più o meno sui 4.000 o 5.000 lanci ok e quindi sono andata lì già esperta paracadutista esperta e poi già praticavo il base jump con la tutelare e di donne ce ne sono veramente poche ancora adesso infatti era un po' l'altro tema anche che a cui avevo pensato quindi quando non so capitava un casting o una pubblicità o un film e cercavano una donna dato che ce ne erano poche e ovviamente io sono stata molto fortunata perché ho lavorato con tanta gente che già lavorava nel campo degli stunt e allenandomi con loro sono poi riuscita a fare e sono loro che ti hanno detto parti per Los Angeles? no no assolutamente cioè io sono partita da sola come paragadutista per allenarmi ancora per far le gare e queste cose e poi lì ho conosciuto i ragazzi di Red Bull di Air Force ok ok e quindi da lì beh loro erano stati anche alcuni di loro erano stati i miei istruttori e per le gare e quindi ci conoscevamo benissimo e poi da lì ho iniziato a fare un allenamento un po' più specifico ma specifico su quella disciplina o per diventare stunt uomo? per diventare anche stunt per fare pubblicità quindi non so e quando avevo dei giorni liberi che non lavoravo perché insegnavo paragadutismo già e facevo sempre lì a Los Angeles scusami quindi tu la prima cosa che hai fatto a Los Angeles è insegnare paragadutismo sì di paragadutismo e poi da lì ecco quando avevo un fine settimana libero e facevo dei lanci non so con un vestito da sera con i tacchi con una borsetta e quindi per già era particolare come cosa per capire cosa potevo fare in aria e ma scusami di che anno stiamo parlando? circa 12 anni fa ah ok ok e tu già postavi cose sui social? dove erano cose che no nel frattempo avevo appena iniziato a lavorare con GoPro ok che mi aveva sponsorizzata per l'assurdo non per il team aria ma il team acqua perché io faccio anche cose in acqua di freediving e scuba diving giustamente per non comunque vuoi farti mancare per non annoiarmi con gli squali sì sì con le balene con i coccodrilli e quindi quando ho iniziato a lavorare per GoPro con appunto questi video in acqua ok e i video andavano milioni di views e lì hanno detto al mio manager che già gli diceva ma perché non fa anche le cose in aria che lei è soprattutto specializzata e lì sono diventata parte di tutte e due i team acqua e aria ok e credo che era la prima volta che avevano un atleta o forse anche ora che fa due discipline per GoPro e nel frattempo mi mandavano a fare i progetti in aria con la tutelare di base jump di paracadutismo e quelli in acqua con gli animali ma però e lì il contatto col cinema come è arrivato? lì è arrivato dopo continuando comunque ad allenarmi a Los Angeles tutte le volte che c'era un casting e nel centro di paracadutismo dove lavoro lavoro io che è il centro uno dei più grandi vengono lì a chiedere chi vengono lì infatti anche mi sembra che Tom Cruise che c'è il corso lì o perché lui c'è questa leggenda che non so se sia vera che lui tenda a non volere lo stuntman in tante scene infatti lui è bravissimo lui fa attore e stunt quindi è vera questa cosa è vero fa tutto lui mazza infatti ha rischiato anche insomma una produzione saltata anche perché lui si era fatto male durante delle scene mazza quindi è vero Tom lui è diventato bravissimo ci credo ci credo ci credo e quindi è iniziato così cosa è la prima cosa su cui hai fatto da stunt e allora mi sembra che per un telefonino HTC sì e mi lanciavo dall'aereo con una tuta disegnata da Lady Gaga con le scarpe anche disegnate da lei è stata una pubblicità che è andata in tutto il mondo ok e l'hanno tradotta in diverse lingue e quindi io mi lanciavo dall'aereo vestita con questa tuta con tutti i specchietti tutta futuristica che sembravo quasi un uccello del futuro sì sì e mi lanciavo a testa in più forse ho capito qual è adesso che lo dici così ecco mi lanciavo allora all'inizio mi truccavano ok perché l'inizio della scena è proprio che io sono in un aereo di questi grandissimi che hanno la porta dietro quindi sei proprio tu in quel momento non stai facendo un'altra persona ok e quindi sembrava un set di moda certo e dove fai la modella e invece poi io camminando proprio si scopre che è l'aereo e ti butti giù si scopre che salto giù dall'aereo beh che figata e poi c'è il truccatore in aria che mi mette che è un altro stunt che si è buttato con te a fare sta roba quante cose che si possono fare in aria e noi stiamo qui per terra veramente una cosa incredibile ma quindi l'ultima cosa sul percorso quindi tu quando sei andata a Los Angeles la tua missione era entrare nel mondo del cinema o eri andata per fare un'esperienza a Los Angeles è sempre stato un mio sogno ok quindi già quando sono arrivata lì e ovviamente sai Hollywood è certo ho subito pensato sarebbe bellissimo fare la Stunt Woman ma non ci credevo è certo però lì devo dirti io sono stato recentemente da quelle parti l'ho raccontato anche diverse volte cioè hai veramente quella sensazione di essere al centro del mondo per questo genere ovviamente di cose cosa sensazione che magari è anche a New York ma io a Los Angeles l'ho trovata amplificata e poi hai anche quella sensazione che se tu vuoi, ci credi, insisti, ti prepari ce la puoi fare davvero cioè tutto può succedere esatto e per te mi sembra di capire che è stato effettivamente così beh cazzo complimenti intanto perché poi insomma sei partita così e dicevamo appunto Scarlett è sicuramente una delle attrici più più incredibili dell'ultimo periodo e infatti l'altra riflessione che facevo è anche questa cioè negli anni non ci sono state in realtà cioè a parte gli anni recenti non sono tante le protagoniste donne o comunque le attrici donne a cui davano dei ruoli di questo genere perché storicamente insomma anche se ne è parlato tanto in questo periodo nel mondo del cinema insomma nell'immaginario la donna doveva essere quella tranquilla e l'uomo era lo spericolato che andava a salvarla quindi immagino che i ruoli da stuntman fossero di più rispetto a quelli da donna e invece tu a parte Scarlett stai trovando tanti sbocchi anche per le donne infatti sempre ringrazio Marvel con questa cosa dei supereroi che tante sono donne eh sì poi loro ci sono impegnati perché per esempio ho fatto tanti casting e anche non so delle volte abbiamo parlato con i registi di James Bond e lì era proprio difficile loro tutti volevano far qualcosa insieme però era difficile il personaggio perché sai James Bond è quello lì più figo che lui è l'eroe di tutto quindi la donna in genere non fa e quindi viene salvata non è che lei che si butta dall'aereo a salvarlo esatto esatto e quindi era un po' più difficile invece con Marvel è stato proprio perfetto beh sì hanno sdoganato soprattutto il ruolo della protagonista donna avventurosa tu l'hai conosciuta Scarlett? no noi non ci conosciamo mai con lui mai? no perché noi siamo una divisione a parte che è sempre negli aeroporti quindi loro non possono nemmeno venire perché è pericoloso dovrebbero firmare tantissime sì poi sai com'è l'America su queste cose molto rigida però uno dei contenuti social che più mi fa impazzire ci sono diversi carousel dove fanno vedere lo stunt con l'attore e tante volte effettivamente ci si assomiglia perché poi in quel caso lì ti truccano proprio per assomigliare a Scarlett e quindi non c'è mai stato veramente neanche un momento e loro vanno per esempio quando ci sono altri stunt di combattimento sono lì perché alcune scene le possono fare anche loro ok ma immaginati cioè quando è un film così quanto vengono pagati certo non li mandano in aeroporto da noi solo a vedere però quindi cosa fanno? la scena non so quella dell'aereo dove ti sei buttata tu quando è sull'aereo la stanno girando in un altro posto da un'altra parte e la scena in cui ti butti tu è solo quella girata lì in aeroporto ah ok quindi è tutto splittato in teoria loro non possono nemmeno andare con un paracadute vero in quota se c'è una porta aperta per esempio a meno che ok se sono legati però cioè diventa già troppo pericoloso tranne Tom Cruise ricordiamolo tranne Tom Cruise che può fare lui guida l'aereo che sta cadendo giù lui fa fa tutto però insomma anche questa è una grande curiosità che poi magari molti non 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 conoscono perché mi sono sempre chiesto anche le scene come dicevi tu quelle di combattimento cioè non so c'è la scena il protagonista o la protagonista combatte a un certo punto fanno ok stop entra lo stunt a prendere non so a continuare il combattimento o sono anche quelle fatte in momenti diversi? spesso sono separate e a volte magari se c'è qualcosa che devono fare nello stesso posto e riesce magari a farlo anche l'attore ok perché non so è un primo piano proprio stretto e non si vedono bene le gambe quello che fa di combattimento allora lì lo fanno per quello però per quanto riguarda noi no perché è proprio troppo pericoloso certo no no la tua è proprio una cosa a parte ma tu ti puoi preparare anche per quegli altri non so il combattimento ad esempio allora io prima di fare paraglottismo ho fatto combattimento ma guarda ci avrei giurato guarda ci avrei giurato però sì l'ho messo nel mio curriculum ok ok poi è capitato delle volte per tv show qualche altra cosa così che ho fatto anche un pochino di combattimento però diciamo non si può far tutto certo è già troppo certo beh no chiaro poi uno si anzi credo che vinca poi chi si specializza in una determinata in una determinata cosa e a te mi sembra di capire che ti piaccia proprio volare stare e stare in aria quello si percepisce da quello che da quello che racconti insomma facendo questo percorso nel tuo settore chi è uno che tu ammiri cioè chi è il più quello che in questo momento è lo stunt più 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 famoso comunque se non famoso almeno tra di voi dico addetti ai lavori sicuramente come ha già detto Tom Cruise perché cioè comunque da un attore che non nasce come stunt certo e non aveva neanche il desiderio all'inizio sicuramente lui quindi da voi è rispettato il fatto che Tom Cruise faccia questa cosa e poi lui lavora con gli stessi stunt coordinator che lavorano con me quindi io so conosci bene e poi beh tutti i miei stunt coordinator che sono bravissimi Jeff che lavora soprattutto con la Marvel e poi tutti i ragazzi del Red Bull team di Air Force USA perché loro lavorano sempre per i film così di azione e per quello che faccio io poi ovviamente ci sono altri stunt che mi piacciono tantissimo che fanno combattimento e altre cose però non ma c'è qualcuno che tu dici cacchio fare quel film lì o fare quella roba lì deve essere stata davvero davvero dura tutti i film di Jace Bond sì perché a me poi piace guidare anche ok quindi tutte le scene in macchina quelle più belle sì quelle dici quei film lì sono quei film in cui per chi fa il vostro lavoro c'è tanta soddisfazione e ci credo e quella è la tua ambizione e beh adesso sto imparando appunto una cosa nuova e ho avuto la fortuna l'anno scorso con Pirelli di avere una sponsorizzazione per andare a fare le sia i corsi e con le macchine e anche durante le gare poi mi facevano comunque guidare quindi ho avuto questa occasione come sai uno sport costosissimo eh sì e quindi anche solo per le gomme che consumi e quindi ho guidato la Lamborghini la McLaren la Pagani e ho fatto il corso EMG di Mercedes e quindi mi sono appassionata tantissimo alle macchine ho fatto il corso di drifting certo e quello è proprio per gli stunt e lì proprio mi sono innamorata ci credo ma dato che sono queste sono tanti tanti ruoli e tante cose che dici di solito attribuite al mondo maschile ti è mai capitato e credo di sì non lo so che delle volte tu arrivassi a fare questa cosa e ovviamente la gente ti sottovalutasse o ti dire vabbè ma tu cosa vuoi fare dove vuoi andare forse all'inizio perché comunque anche sono magrolina piccolina non sono alta o non troppo muscolosa quindi sì all'inizio sì però poi quando ti alleni tanto e ti vedono comunque fare le cose e hai tanta passione poi gli americani sono comunque non considerano così tanto la donna e l'uomo sono più sì ok e conta più quello che fai se sei bravo a fare quella cosa non mi interessa esatto e questa è una grande cosa quindi secondo te l'essere donna ti ha aiutato o ti ha ostacolato nella tua carriera? in delle cose mi ha aiutata invece in altre meno eh ci credo tipo perché ebbè tutti i ruoli sono maschili quasi tutti quindi purtroppo e invece mi ha aiutata tantissimo per tutte le cose invece che volevo fare da donna più femminili di fashion di cose creative sì poi credo ti abbia aiutato non lo so per fare queste cose poi in cui sei anche tu il fatto che tu sia una bella ragazza che fai anche questo mestiere non so quante poi ci siano anche magari di profili come i tuoi allora di paracadutismo siamo veramente pochissime che fanno questo lavoro già di suo con la tutelare di base jump certo ti sei andata proprio a prendere un settore una nicchia del settore ti sei specializzata in quella anche perché adesso poi c'è un grande tema che è quello della paura cioè tu non hai paura sì 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 certo ce l'hai in che momento tu hai paura? la notte prima sì delle volte dormo male o non mi addormento perché magari penso non so se non funziona bene il paracadute perché poi sono sempre delle delle cose nuove che non abbiamo testato quindi non è un lancio normale di paracadutismo e non so per esempio per Black Widow noi ci lanciavamo e poi per arrivare al cattivo e davamo proprio sai a tutta velocità delle botte sopra all'altro paracadute sopra alla testa dell'altro mentre eravate in volo quindi rischiando di compromettere la discesa sì perché lì sono hai visto tutti degli sconti sì 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 in aria cioè quelli avvengono davvero sì così come li vedi e magari li velocizzano un pelino però più o meno è così come li vedi e quindi lì in quel frangente prima di cioè prima immagino perché poi quando sei dentro magari lì devi stare molto attento alla velocità quanto veloce arrivi però che succede che se arrivi troppo piano non sembra vera la scena quindi la devi fare devi trovare proprio il giusto equilibrio fra che sembra proprio una scena che gli vai addosso fortissimo però non ti devi far male ovviamente chiaro e Black Widow io ero piena di lividi è stata la più difficile che hai fatto fino ad oggi c'erano tanti tanti scontri in aria sì la volta che hai avuto più paura cioè al di là magari del film eccetera c'è stata c'è stata sì quando sono passata in mezzo a due palazzi con la tutelare a Panama perché c'era vento fortissimo ed era di taglio ok noi diciamo crosswind e quindi sono passata in mezzo ed era tutto bello tranquillo infatti sorridevo nel video appena esco fuori dai due palazzi si vede proprio un colpo di vento che mi spinge di lato e si vede proprio il viso che cambia perché avevo questa telecamera qui certo e si vedeva benissimo la reazione del viso e lì mi sono spaventata perché ero bassa dovevo aprire il paracadute e quando ho sentito che mi stavo quasi ribaltando e lì ho avuto paura perché non puoi aprire il paracadute in qualsiasi posizione devi essere orizzontale cioè gli devi avere anche la freddezza e la lucidità di sapere che cosa fare in quel momento e ci si prepara a una situazione di questo genere sì 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 per questo si fanno tantissimi allenamenti prima e quando si fa uno stunt del genere si studia un po' tutto purtroppo noi stava arrivando brutto tempo e stavamo facendo il video per GoPro e avevamo i permessi solo quel giorno e non era così male come sembrava poi ecco queste cose del meteo cambiano improvvisamente cioè noi eravamo in elicottero e quando io stavo per uscire il ragazzo che era giù ha chiamato il pilota e gli ha detto guarda che non è il caso no aspettate tornare giù invece io ero già uscita quindi ci credo ormai ormai ero in aria non torni indietro ti è ributtata è chiaramente pazzesco quando qualcuno ti dice ma tu sei matta tu cosa rispondi a questo tipo di perché credo che sia l'ottanta per cento delle persone ti diranno una cosa di questo genere secondo me sono matti più gli altri che non fanno queste esperienze non vivono e non si lasciano andare ogni tanto non fa una piega tu dove sei nata ad Anzio ad Anzio e lì cosa che ti ha preso che ti ha fatto lì sicuramente perché sono cresciuta al mare per questo sicuramente mi piace il surf e il free diving però di volo lì proprio non era beh vicino casa di mio papà c'era questo centro di paracautismo dove io vedevo sempre i paracautisti e quindi sicuramente però non è un posto famoso per il volo comunque credo che sia anche un mestiere per cui allenarti fare un tipo di percorso sia anche insomma sacrificante cioè tu insomma ho degli amici che saltano quindi devi andare al campo spendi anche un sacco di soldi e non tutti puoi fare una carriera come la tua no infatti in Italia è difficilissimo trovare gli sponsor è anche difficile allenarsi perché non sono sempre aperti i centri di paracautismo ma solo il fine settimana e gli sponsor io credo che può anche essere un po' per la mentalità e appunto perché non ci sono tante cose di azione come gli Stati Uniti magari fanno più fatica insomma a fidarsi o poi l'altro motivo invece sul discorso stunt è che non ci sono molti film da stuntare cioè io adesso a meno che in Don Matteo iniziano a mettere dei salti dagli aerei cose strane io pensavo non so una poliziotta che rincorre e poi si butta giù da un ponte non succede non succede non c'è proprio nella trama quando scrivono dicono allora sta cosa mi sa che costa un po' troppo non la possiamo fare quindi a sto punto facciamo che stiamo tutti in un convento e succede qualcosa sto sparando sto sparando a casa però anche al cinema vai sai cos'è facciamo la commedia ovviamente credo che sia anche un discorso di risorse perché quei film che hai citato tu io adesso non ho idea o meno l'avevo letto ma lo stesso Black Widow o in generale il film della Marvel costano una caterva di soldi cioè fare dieci volte anche solo quella cosa che avete fatto voi credo che costi un sacco di soldi e quando fai la stanta ad esempio per un personaggio come Scarlett succede anche in altri film come magari per il mondo del doppiaggio sai che a volte ci sono cose completamente diverse però un doppiatore dall'Italia gli Stati Uniti poi accompagna magari se è un attore importante il percorso anche di quell'attore sì 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 infatti cioè diciamo che poi la Marvel non fa proprio dei contratti sempre con lo stesso attore però ovviamente se tu nel film hai fatto tutte le scene bene e il film è uscito come il regista insomma il produttore e quindi lì ti richiamano chiaro infatti poi da dagli Iron Man poi fino a Black Widow quindi lì tu lavori per la Marvel in quel momento sì ok quindi poi entri diciamo nel loro roster per quel tipo di film però questo non ti vincola nel farne altri no puoi farne altri puoi fare tutto non sono contratti in esclusiva l'unica cosa che ovviamente c'è anche un po' di rispetto certo perché sai comunque quando lavori che poi Marvel Disney quindi quando lavori per la Disney è meglio che lavori per la Disney beh dai in questo momento poi figurati io non voglio chiederti quanto guadagni ma la cifra giustifica il rischio mai mai immaginavo no perché gli attori guadagnano tantissimo rispetto a noi certo certo noi rischiamo veramente tanto e ci credo in quel caso lì però c'è cioè ci sono dei fattori che fanno aumentare lo stipendio sparo non so allora sì se ti butti e basta prendi però se ti butti e devi fare un combattimento in aria è di più cioè ci sono degli scaglioni sì quelli si chiamano stunt adjustment ok quindi non so se mi devo lanciare con i tacchi a spillo piuttosto mi devo lanciare non so con un vestito lunghissimo che si può sai intrappolare ok certo oppure devi fare un atterraggio in uno stadio o come ho fatto con la team ah ok lì c'è un stunt adjustment ok e se per esempio ecco durante marvel devo fare un combattimento in aria anche lì perché ti puoi far male o non so se sono dei cavi delle cose che anche non hai mai fatto ok e quindi lì qualcosina cioè giustamente ti viene riconosciuto ok ero molto curioso anche di no come vedi insomma credo che sia veramente un mestiere molto affascinante e che è fondamentale nella storia del cinema cioè se ci pensi alcuni dei film più più incredibili hanno scene di questo di questo di questo genere anche per voi che fate gli stunt sui film della marvel c'è della riservatezza incredibile sai che c'è ormai c'è un hype talmente tanto nei film che a quel punto ti vincolano qualsiasi cosa immagino firmerai sì e poi quando esce il film chiedi il consenso se puoi mettere delle immagini dei video e anche se puoi parlare di queste cose infatti ci sono tante cose che non me le puoi chiedere ah chiaro non te le ho chieste però no non me le hai chieste va bene allora per fortuna e invece altre star al di là di quelle di cui hai fatto stando a los angeles stando in questo mondo hai fatto delle conoscenze che tu ti sei detta cacchio io sono partita da Anzio e sono arrivata qua a Hollywood con in realtà no perché comunque non cioè io non volevo fare nell'attrice e quindi cioè volevo proprio fare questo sport però ti devo dire è stata una soddisfazione quando sono andata alle prime dei film poi abbiamo vinto un premio quando abbiamo fatto Iron Man 3 e si chiama Taurus che è proprio il i premi che danno agli stunt ah c'è una cerimonia sì c'è un Oscar che bello proprio un Oscar solo per gli stunt sì di tutti i film ok e noi quell'anno abbiamo vinto mi sembra quattro Oscar per quel film per Iron Man 3 per la scena che abbiamo fatto in aria e qual è il campione qual è il titano grandi così mazza davvero e cosa c'è invece che l'omino dell'Oscar c'è un tipo un omino che si butta alato sì è tipo non so se è un cavallo alato una cosa del genere bello bello ma qual è il titanic di quegli cioè il titanic degli Oscar degli stunt beh noi allora quando siamo voi già ne avete vinti abbastanza sì e questo qui è quello più ce n'è uno c'è solamente quello lì che fanno ad Hollywood e di solito lo fanno al il teatro cinese ah il China's Theater quello sul Sunset Boulevard esatto noi l'abbiamo fatto lì e devo dire è stata una grande soddisfazione ok abbiamo fatto il tappeto rosso beh dai giusto 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 e poi mi ricordo la prima volta che ho visto l'assegno di Disney che ho letto Disney che bella emozione sai da quando sei piccolino che vedi film della Disney e poi pensa a Topolino che ha dovuto stamparti lui in prima persona l'assegno ha firmato con le sue mani da Topolino però è credo che sia davvero una bella emozione poi noi insomma da questa parte comunque vediamo quel mondo lì in un modo particolare però a me ha stupito molto come in realtà anche i più grandi di quel mondo si approcciano tra virgolette ai più piccoli comunque con un con un fare del io comunque ti voglio dare una possibilità cioè se tu io ti do una possibilità e tu cresci cresco anche io cioè io non so ho avuto questa sensazione poi hanno un miliardo di difetti che probabilmente conosci anche tu diciamo Los Angeles non è famosa per il costo della vita basso perché ho visto un po' di case con costi particolarmente cari però insomma tu adesso quindi da Puerto Rico riesci tranquillamente comunque a a spostarmi tu surfi quando finisci di surfare vai a fare magari qualche produzione o qualcosa di questo genere cioè un manager tu hai un manager funziona allora il mio manager è a Los Angeles ok però io viaggio da Puerto Rico viaggio dappertutto e quest'inverno sono stata alle Maldive e in Australia a Panama lì per piacere tuo o sempre per lavoro sempre eventi legati a progetti oppure in Australia era per IMAX Movie ok era l'ultimo episodio di IMAX che esce il prossimo anno ok lì lo vedremo in cinema fighissimo sì e anche lì ci saranno le prime a New York a Los Angeles a Las Vegas ok e cinque anni per filmare tutto tutto il documentario sì quindi tu hai seguito questo progetto per cinque anni sì adesso ho finito quindi sono libera ora sono in vacanza ok ok e quindi sì è un po' scomodo devo dire da Puerto Rico viaggiare però qualità della vita beh anche l'amore ho trovato un ragazzo questo te l'avrei chiesto perché ero molto curioso di come come funziona essere un fidanzato di una ragazza che tendenzialmente si butta dalla paracolpa si butta anche lui si butta ah per fo' era l'unico cioè perché poi ci sono sempre quei discorsi per cui devi trovare una persona che ti capisce quanto meno e per capire te o fai quella roba lì o diventa complicato infatti e noi che vabbè io viaggio sempre lui lavora tanto ci vediamo poco poi ogni tanto ci facciamo un bel tramonto in aria ah in aria scusami pensavo in spiaggia ma hai ragione tu e come vi siete conosciuti buttandovi giù un gioco di sguardi sì ci siamo conosciuti in Florida durante dei lanci ah vedi sì e quindi poi ci vedevamo ovviamente a terra certo beh in aria no perché lui era in un altro gruppo ok però poi lì eravamo solamente amici poi siamo rimasti amici per tantissimi anni e poi quando ci siamo rivisti in volo lì forse beh d'altronde questo conferma che l'amicizia tra uomo e donna non esiste perché poi è diventata questa esisteva per tanto tempo esisteva e vedremo presto Scarlett in qualche altro film perché magari non so io non so che ho visto finito Black Widow sai che adesso c'è tutta ovviamente lo saprei meglio me tutte le nuove fasi della Marvel noi essendo molto molto fan eccetera ci saranno siamo molto curiosi di vedere anche cos'altro farei farei tu probabilmente anch'io questo non te lo parlo no no ma infatti lo sapevo faceva parte delle cose per cui Stan Lee ci ha chiesto ai tempi non parlatene mai me l'ha chiesto a voi grazie davvero mi ha fatto un sacco piacere fare questa chiacchiera io ho fatto un sacco di domande ma perché ero davvero curioso e spero che sia stata anche di grande ispirazione per chi ci sta guardando è un momento anche in cui a volte raccontare storie come la tua dove probabilmente magari per te sembrerà quasi anche normale quello che fai ma secondo me a tanti diranno boh ma sai cos'è allora io quella cosa lì la posso fare se lei è andata a Hollywood e ha chiunque lo può fare lancio lo può fare chiunque anzi venite a lanciarvi certo che è un'esperienza fantastica bisogna prepararsi ci vuole tutto un discorso di e poi gli stunt se proprio vuoi fare lo stunt io dico vai a Los Angeles per forza per forza grazie davvero grazie ciao ciao Roberta Mancini